Buongiorno a tutti siamo qui oggi al Marina di Capodorlando per presentarvi la gamma dei gommoni B2A che rappresentiamo in esclusiva per Calabria e Sicilia dal 2018 insieme al marchio Marshall, altro marchio storico Oggi acquistare un'imbarcazione è ancora più conveniente grazie ai diversi programmi di gestione che Parallelo 38 è in grado di offrire, è possibile quindi acquistare l'imbarcazione ed affidarla a Parallelo 38 nei periodi di inutilizzo ed ottenerne una rendita Parallelo 38 non si occupa solo di vendita ma anche di noleggio di imbarcazioni è una società di charter nata nel 2007 quindi oltre a questi mezzi a motore quindi gommoni Parallelo 38 commercializza imbarcazioni a vela, monoscafo e multiscafo Già concessionari del marchio Dufour dal 2011 presentiamo anche oggi la gamma che è presente al Marina di Capodorlando anche per noleggio dei catamarani Fontempagio di cui avremo tre modelli importanti in questa stagione che arriva Vi aspettiamo quindi al Marina di Capodorlando per scoprire la nostra flotta e per valutare le possibilità di acquisto e di noleggio che possiamo offrirvi